Eccoci qui ragazzi in un nuovo video, che cosa dire se non wow rispetto a quello che è successo nell'ultimo paio di giorni nel mondo delle cripto. Infatti nell'ultimo paio di giorni abbiamo visto il prezzo di bitcoin ma di tutte le cripto crollare sotto i minimi toccati a giugno. I livelli che sto guardando con particolare attenzione, i prossimi trade che ho intenzione di aprire. E come sempre ragazzi siete nuovi su questo canale, vi piacciono queste tipologie di contenuti, quello che vi chiedo di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale perché in questo modo mi aiutate tantissimo con l'algoritmo YouTube e in più mi fa molto piacere. Allora iniziamo subito a fare un breve e veloce riassunto di quello che è successo. In questo caso dobbiamo prendere il principale attore che è FTX, la seconda piattaforma, secondo exchange più grande nel mondo cripto. A quel punto Binance dice ok sono diventati dei veri e propri competitor, è arrivato il momento di liquidare l'investimento che abbiamo su di loro. Si intascano 2 miliardi, di questi 2 miliardi 500 milioni gli detengono nel token di FTX che sarebbe FTT. Molto importante, questo token è poco liquido, è un token estremamente illiquido. FTX nel corso degli anni comincia ad allacciare rapporti con politici americani, iniziano a finanziare il partito democratico eccetera eccetera. Il motivo principale per cui fanno questo è cercare di fare lobbying per regolamentare le cripto, così da far fuori il principale competitor che è Binance. Giustamente a quel punto il CEO di Binance, che per abbreviare chiameremo CZ, è ben cosciente di questa situazione. Quando qualche giorno fa, qualche settimana fa, sono uscite fuori delle notizie di una probabile insolvenza di problemi a livello di liquidità per FTX, decide di fare un tweet dicendo ai suoi milioni di follower che Binance inizierà a liquidare, a vendere questi 500 milioni detenuti di FTX. Cosa succede? Che si crea il panico, lo scompiglio nei mercati, FTX inizia a crollare del 20-30% nel giro di pochi minuti, e qui entra in gioco Alameda, le cose diventano interessanti. Alameda è questo hedge fund che era stato creato dal CEO di FTX prima di fondare FTX. E qui iniziano i problemi, Alameda a quanto pare aveva 12 miliardi in asset, quindi in attività, e 7 miliardi in liability, quindi in passività. Il problema è che di quei miliardi in asset, la metà, erano nel token di FTX, che ricordo, un token estremamente illiquido. A questo punto Alameda sta morendo, è un grosso problema perché Alameda è estremamente collegata ad FTX, perché facevano da market maker, sono uscite fuori diverse notizie, diverse voci, ma a quanto pare sembra che avessero anche delle posizioni, sembra anche che avessero delle posizioni a leva e che addirittura avessero iniziato a compare azioni con i fondi dei clienti di FTX. A questo punto, sempre più panico nei mercati, finché il CEO di FTX e anche il CEO di Binance annunciano su Twitter che Binance avrebbe acquisito FTX. Lo sconforto è continuato, ma i mercati hanno deciso di risalire a questa notizia, poi poche ore dopo, addirittura il giorno dopo, è uscita fuori la notizia che non se ne fa più niente, perché probabilmente il team di Binance ha redatto quelli che sono i dati di FTX e hanno pensato ok, qui noi non possiamo farci niente, quindi non possiamo salvare la situazione. Ora, vedremo come si evolverà la situazione nel prossimo periodo, quello che mi sembra pazzesco è come effettivamente in molti casi sembra che non ci si possa fidare dei grandi uomini della finanza. È uscito fuori nell'ultimo periodo, ci avevo fatto anche un video, il fatto che in UK, quindi nel Regno Unito, molti grandi della finanza dei fondi pensione avessero iniziato ad investire a leva finanziaria in titoli di Stato, in obbligazioni, ma andando quasi in default l'intera economia degli UK. Ed in questo caso invece addirittura hanno deciso di investire miliardi utilizzando leve finanziarie in un ambiente speculativo come quello delle cripto. Ed io personalmente faccio regolarmente trading a leva, ma sono due cose completamente diverse, se non mi sognerei mai di fare degli investimenti a leva finanziaria al massimo. Io quello che faccio è aprire delle posizioni giornaliere utilizzando leva finanziaria, utilizzando risk management e cercando di fare dei veloci e brevi profitti. Ma pensare di andare ad investire i risparmi, i soldi dei clienti in queste criptovalute che alla fine la maggior parte dei casi quello che sono è puramente storytelling, mi sembra davvero un qualcosa di fuori dal normale. Etto questo, sono stati un paio di giorni molto profittevoli, siamo riusciti a cavalcare uno short su Bitcoin, avevo parlato nel mio precedente video che nonostante mi aspettassi, a parte questo cigno nero che Bitcoin poteva salire anche al di sopra dei 21.500, ho detto chiaramente che se non fossimo saliti al di sopra, sotto i 20.000 avrei aperto una posizione short, cosa che ho fatto. In realtà la prima posizione short che ho aperto sia su Bitcoin sia su FTT, appena trapelate le prime notizie non è andata per niente bene, ho perso addirittura, ero in profitti anche abbastanza lauti, per poi andare a chiudere queste posizioni addirittura in perdita, proprio perché è uscita fuori la notizia dell'acquisizione, i mercati hanno riniziato a salire senza un apparente motivo, ho ricavalcato però la discesa. In questo momento però ho chiuso tutte le mie posizioni short. Quali sono quindi i prossimi livelli che sto guardando con particolare attenzione, soprattutto che cosa mi aspetto nel prossimo periodo? Allora, innanzitutto c'è da dire che in questo momento, per via di questo black swan, di questo cigno nero, sembra che siamo in una fase di capitolazione. Attenzione però a non pensare che necessariamente questo sia il fondo dei mercati, perché in questo momento abbiamo raggiunto il punto minimo dei 15.500 dollari. Potrebbe essere il fondo? Sì, potrebbe essere tutto. È quello che mi aspetto? Assolutamente no. Principalmente per via dei mercati tradizionali dell'S&P 500. Infatti finché i mercati tradizionali non toccheranno il fondo, e a mio personale parere che potrebbe anche essere sbagliato, ancora non abbiamo toccato il fondo, ecco fino a quel momento neanche Bitcoin toccherà il fondo. Chi mi segue sa bene che il mio price target degli ultimi mesi di Bitcoin è sempre stato dai 10 ai 12.000, che non significa che non possiamo andare al di sotto, che non possiamo fermarci al di sopra, ma che a 10-12.000 inizierò a comprare qualche Bitcoin. Ovviamente è solamente una piccola parte speculativa del mio portafoglio. Attenzione, non si parla di andare all-in nelle crypto, in Bitcoin, eccetera, proprio perché sono ben cosciente sempre del concetto di storytelling nel mondo delle crypto, che spero che a molti sia chiaro. Quindi questa fascia verde negli ultimi mesi è sempre stato il mio potenziale bottom, è sempre stato il livello nel quale sarei stato interessato a comprare Bitcoin. L'unica cosa è che in questo momento Bitcoin dovrebbe cercare di reggere i 15-16.000, addirittura risalire, proprio perché nei prossimi mesi nei mercati, per via della situazione macroeconomica, mi aspetto, che scenderanno ulteriormente. Abbiamo visto che giusto un paio di giorni fa è uscita fuori la notizia che Facebook ha iniziato a licenziare 11.000 dipendenti, anche questo era un qualcosa che avevamo previsto, che la situazione macro sarebbe peggiorata, per via anche delle politiche monetarie della Feda Reserve. In realtà la Feda Reserve è questo che vuole. Quindi, nonostante queste grandi aziende tech, che Facebook non è l'unica, abbiano iniziato a fare licenziamenti di massa, possa sembrare, ed è una cosa negativa per molti, in realtà questo è l'obiettivo della Fed, anzi il numero di disoccupati nel prossimo periodo deve cercare di crescere il più possibile. Solamente a quel punto inizieranno ad allentare queste politiche monetarie e a mio personale parere ci sarà una ripresa dei mercati. Quindi, è vero, questa può sembrare una capitolazione di Bitcoin, del mondo delle cripto in generale, ma molta, molta attenzione a quello che succederà nei prossimi mesi, nell'S&P 500 e nei mercati tradizionali. Per quanto riguarda i livelli che sto guardando con particolare attenzione, e i prossimi trade che voglio aprire, allora, specifichiamo innanzitutto che in questo momento, nel momento in cui sto girando questo video, sono appena usciti fuori i dati CPI, quindi i dati sull'inflazione. E a quanto pare sono stati dei dati positivi, infatti sono stati inferiori rispetto alle aspettative, 7,7% di inflazione, invece delle aspettative del 7,9%, ed effettivamente quello che stiamo notando è che i mercati hanno reiniziato a salire. Bitcoin, quando ho iniziato a fare il video, si trovava intorno ai 16,5%, in questo momento ci troviamo a 17,600 dollari. Anche le azioni, prima dell'apertura dei mercati, sembra che abbiano reagito molto bene a questa notizia positiva. Detto ciò, in questo momento sono molto tentato di aprire una posizione short su Bitcoin, intorno a questa fascia di prezzo, quindi intorno ai 17,600, 17,700, questo perché? Perché questa fascia di prezzo era il minimo toccato a giugno, che in questo momento fa da resistenza. L'unica cosa che mi sta un po' frenando è che i mercati aprono tra una mezz'ora, se l'S&P 500 dovesse continuare a salire a quel punto non mi stupirà di vedere uno squeeze continuare verso l'alto su Bitcoin. Quindi aspetterò ancora un attimo per vedere come si concretizzeranno le cose nella prossima ora, eventualmente se ci fosse uno squeeze, probabilmente apre una posizione short intorno a questa fascia di prezzo, quindi intorno ai 18,500, 18,600 dollari. Per quanto riguarda invece le posizioni long su Bitcoin, sono interessato ad aprire dei brevi e veloci scalp long, solamente nel momento in cui dovessimo ritestare questo minimo toccato dei 15,5 o qualcosa poco al di sopra. Ma ripeto, sarebbe solamente un breve e veloce scalp. Questo perché? Perché questa fascia di prezzo, se andiamo a prendere il grafico giornaliero, possiamo notare che va fatto da resistenza successivamente da supporto a novembre 2020. Quindi in questo momento sta facendo da supporto. Nel momento in cui invece dovessimo rompere questo supporto, l'altro livello su cui ho gli occhi ben puntati, è il livello dei 14,000, anche qui probabilmente andrà ad aprire una posizione long. Ripeto invece, sarei interessato a comprare un po' di Bitcoin in questa fascia di prezzo. Quindi nel mio price target, che è sempre quello da mesi, tra i 10 e i 12 mila dollari. Quindi breve e veloce recap. Già questa in realtà è una zona in cui sono tentato a entrare short, ma in questo momento per via dei dati positivi sull'inflazione preferisco aspettare. Nel momento in cui dovessimo risalire, questa è un'altra zona in cui entrerò short. Qui invece long, qui invece long, ovviamente brevi scalp, mentre qui nel momento in cui ci dovessimo arrivare, inizio un po' di accumulo. Quindi ragazzi, come possiamo notare, questi sono i livelli. L'ideale sarebbe lasciare più tempo a Bitcoin, alle crypto di muoversi liberamente nei prossimi giorni, per cercare di capire la direzione che intendono prendere. Come dicevo prima, molta attenzione al fatto che nelle prossime ore, nei prossimi giorni potrebbero essere vendute tantissime altcoin. Questo potrebbe far crollare ancora di più i mercati. Arrivati a questo punto, fatemi sapere che cosa ne pensate di tutta questa situazione, fatemi sapere come siete posizionati in questo momento sui mercati. Io come al solito spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile dire che anche per oggi è tutto. Noi ci rivediamo molto molto presto nel prossimo video. Grazie a tutti.